Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nel mio canale, io sono Rory Piscoldi, oggi siamo con SommoZero4 Ciao, però Siamo qua all'Italmark oggi, perché volevo fare il video Lui indovina e io glielo compro E adesso andremo a... deciderò un pre... deciderò un... Che sto facendo? Adesso andrò a vedere un prodotto e... devo farlo indominare Ok raga, facciamo questo Questo qui Samu? Vieni, quanto costa questo qui? Costerà sicuro... se questo qui è piccolo, questo è il doppio, quindi costarà 6 euro 90 centesimi Di nuovo, di 90 centesimi Ok, questo flauto qui Quanto è Samu? 4 euro giusto 10.69 Ok, ora il cubo di Rubik Samu? Samu? Vieni Quanto costa questo cubo di Rubik? 12 euro 90 centesimi Ti siamo a questi 90 Ok raga, ti faccio indovinare questo qua che è una zanziere per la finestra Samu? Per te quanto costa questo qua? 14,90 Madonna sei andato troppo oltre Ok raga, siamo nella parte dei gelati Cioè gelati Faccio indovinare questo Il sugo Lo scoglio Samu? Per te quanto costa questo? Per te quanto costa questo? Non è di meno 7 euro no? 3 euro e 99 Troppo basso 6 euro e 90 Siamo a parte dolci Direi di farli Siamo a parte dolci Perfetto Perfetto So cosa Ormai l'avrei già visto Quanto costano? Quanto costano? Quanto costano? 3 euro queste cose merda Di queste merda 3 euro 2,50 Sei matto Gli occhi di bue Che schifo Guarda che sanno di Fan cagare Sanno di arancia Cioè sanno di eh Anche io però Ecco ma sono troppo buoni raga Cioè allora Capisco quelli Delle Capisco quelli della pasticceria Ma quelli del supermercato Sono tutti Sanno tutti di merda di quelle Comprate alla pasticceria Queste cose Lo dice il maestro Iginio Ciao Iginio E' sembrava il cellulare Piuuu Ok raga Siamo alla parte Delle patatine Fai queste Ok Guarda che ci sono in America Oh raga Le Doritos Quelle che ha assaggiato mio fratello Questo è il prezzo Togliamo Vediamo Dai Sam Quanto costano queste Doritos Sicuramente Allora Per me le Doritos Vanno da Dall'1 Ai 3 euro Facciamo 2 euro giusti Anche 1 euro 99 Cazzo 1 euro 79 1 euro 79 Cosa ha detto? Raga siamo riparti pasta Direi di farli Ma si Facciamo questi No? Questo è il prezzo In realtà siamo quanto costano i Deciacco Per me Visto che qua costa tutto 99 90 99 centesimi Di meno Cioè di più Costo un errore Di meno Apertoni Ok Dove è andato? Quello di Dream's Mosoli Ecco Vai Smosterezza Qua raga c'è Giovanni Rana Nostro Si vede così perché è riflesso dalla luce proprio Quello che c'è sulla tele Voi si vede male scusate raga Però qua Quanto costo? Quanto costo? Questo è il prezzo Ok Quanto costa Giovanni Rana Il nostro Giovanni Rana Meno costerà 2 euro e 29 2 euro e 49 Si ma tanto è tutto qua 29 29 90 Quindi allora praticamente faccio solo 29 No aspetta faccio solo 99 E 90 centesimi Quindi alla fine nei supermercati quando ti becchi un prodotto C'è sempre Vero? Dici anche te Alla fine c'è sempre un 9 raga Guardate Fagli vedere 9 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 Quanto è questo qua? È tutto che finisce col 9 9 2 euro e 99 2 euro e 90 2 euro e 60 2 euro e 60 2 euro e 60 Inquadrami Inquadrami Vai Guarda che questi ci sono Guarda guarda Ok raga Quanto costano vai mercolò? Costano per me Te le comprasse le indovini Te lo giuro Per me 5 euro 1,80 Ma che cacchio What the fuck? Eh sono due non sono mica 10 Ah mosti Vabbè Che scemo Niente raga allora siamo nella Siamo Cosa? Così Così Ah si sono quelle che ti fanno Si scorreggiare abbiamo capito No Dice che si devono fare loro Godzilla sei tu? Allora raga Eh li facciamo indovinare Eh Facciamo indovinare Cosa? Oh bella questa La gassosa Quanto quanto siamo? Eh 69 Porco tu Niente raga Devo comprare Niente raga La andiamo a comprare E faccio anche il video Si lo prendo veramente questo Davvero? Ma che schifo Non mi piace Non ti piace Non mi piace raga Dai fai niente Non la voglio Eh L'ha indovinata però non lo compro Non mi piace raga Perché non mi piace Vabbè 7up è tipo la stessa cosa ragazzi Io direi l'ultimo 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 Qualcosa Prezzo da indovinare Io direi di fargli Dire il prezzo Della Coca 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 Questo Succo accia Quanto costa? Un euro e venti Un euro E 29 1,49 E niente raga Se vi è piaciuto questo video lasciate a tanti mi piace Iscrivetevi qui al mio canale Iscrivetevi qui al mio canale Iscrivetevi anche al suo canale Poi anche E poi qui il mio canale Instagram E il suo canale Instagram qua Proprio qua sopra Niente raga se vi è piaciuto questo video lo ripeto lasciate a tanti mi piace Iscrivetevi anche al canale Un commento Un commento E noi ci rivedremo al prossimo video Ciao a tutti Ciao raga Bella